sempre con riferimento al prossimo 29 di giugno in cui il cristianesimo cattolico celebra una cosa fondamentale per il cattolicesimo il martirio dei principi degli apostoli pietro e paolo ma anche per me perché come per il cristianesimo tutto parte dal martirio di pietro e paolo così io parto dalla nascita di mia madre nata in quel 29 giugno ora per vedere se tutto il tempo in giorni riferito non solo a mia madre ma anche a mio padre è un tempo pieno riferito all'imminente 29 di giugno di questo anno vediamo quanti giorni esistono dalla nascita di mio padre fino al centodecimo anniversario della nascita di mia madre è il primo calcolo del calcolatore rivela la pienezza di 40 mila e 900 giorni vedete potete anche vederla in 111 anni e 11 mesi laddove abbiamo cinque unità e il 31 ossia il 30 più 1 espresso nelle settimane nei giorni invece nei giorni interi 900 indica tutto il movimento di 100 ebbene tutto il movimento di 100 esiste in tutta la realtà data da quattro volte 10 elevato a 4 perché quattro volte perché 10 elevato 4 è la realtà ma esiste nello spazio tempo ossia una volta nello spazio e tre volte nel tempo o se volete nell'unità e nella trinità di dio per cui in relazione a mio padre il centodecimo anniversario della nascita di mia madre segna proprio tutto il movimento 900 esistente in tutta la realtà 40.000 con riferimento alla nascita di mia madre la centodecima ricorrenza rivela 110 anni ora poiché nel mio terzo nome io mi chiamo anna ecco è una anna che in 110 anni sono 111 volte anna o anno se volete insomma 110 anni dando valore unitario un anno sono 111 ebbene quando si trasformano nel numero dei giorni il totale dato da 40.177 giorni che cos'è è 66 uguale romano chi va in avanti per 110 unità in tutta quanta la realtà insomma il centodecivo anno dell'avvento di mia madre segna per me quanto il 29 giugno segna nel cristianesimo tutto il tempo riferito ai miei due genitori indica il totale moto di tutta la realtà quella che mi ha messo al mondo in particolare i giorni 40.177 relativi a mia madre quella che nasce nel prossimo 29 di giugno come il centodecimo anno nella sua ricorrenza ebbene questi 40.177 sono il 66 più 110 più 1 di un romano che vale 66 e dunque è 67 ed è il mosso di 110 dunque è 177 ed è 177 in tutta la realtà 40.000 data da 4 volte 10 elevato a 4 insomma che cosa devo aspettarmi io in questo giorno così significativo per me che riferendomi a mio padre si compia tutto il moto 900 del 100 esistente in tutta quanta la realtà qual è questo moto riferito a me se è un moto della mia vita è il tu sei tu sei romano es da cima a fondo dalla a alla u tu sei esauro ciao